Non basta più dire che il Molise non è attrattivo per medici e altri professionisti sanitari, perché non si fa nulla per far rimanere negli ospedali regionali chi già vi lavora. Ancora una presa di posizione, questa, del PD molisano sulla sanità. Ancora una volta, nel mirino del segretario Vittorino Facciolla, finiscono il commissario Donato Toma, cui in consiglio, spiega Facciolla, presto chiederemo conto dei ritardi sul centro Covid, visto che avevamo denunciato come la scelta sull'ex hospice del Cardarelli fosse inadeguata e il manager dell'ASREM, Florenzano. A preoccupare in queste ore è l'emorragia di medici che lasciano le corsie degli ospedali pubblici. Il Cardarelli, la struttura più colpita. Non a caso, dice l'ex primario di chirurgia Giuseppe Cecere, andato in pensione da poco per assoluta incompatibilità, scandisce chiaramente con la dirigenza sanitaria di questa regione che in due anni ha depauperato tutto quello che c'era. Quello che Cecere, segretario regionale del sindacato dei chirurghi, definisce sfacelo organizzativo, a suo parere ha un peso importante nella scelta di tanti altri colleghi, in particolare anestesisti, che rispetto alla primavera scorsa sono dimezzati. Il Covid, sottolinea Cecere, soprattutto la seconda ondata, è piombato su un sistema che già non funzionava. Ci sono stati 530 morti solo per il Covid. Questi, bisognerebbe aggiungere, il ritardo nei pazienti oncologici, cardiopatici, che in quel periodo in ospedale non venivano, perché in maniera sciagurata è stato fatto dell'ospedale regionale per le tempodipendenze, cioè il Cardarelli e anche l'ospedale Covid, determinando una commissione pazzesca fra i pazienti Covid e i pazienti ordinari. Nel reparto che io all'epoca dirigevo, la chirurgia generale, ci sono stati 50 positivi, tra ricoverati e dipendenti. Questo sempre facendo riferimento al direttore generale che continuava a sostenere che esistevano due ospedali distinti nello stesso. Assolutamente falso e i fatti purtroppo mi hanno dato ragione. Il Molise, accusa allora Cecere, non è attrattivo perché l'ASREM oggi non è attrattiva a nessun investimento in tecnologia, eppure erano decisi e programmati da tempo, con corsi deserti, medici che vanno via appena possono. Gli anestesisti, figura fondamentale anche per il Covid, dal Cardarelli stanno scappando tre verso il Gemelli, un altro, aggiunge Cecere, ha chiesto di essere trasferito in un altro ospedale della regione. Qualcuno, conclude, dovrebbe chiedersi perché e porre rimedio. Qualora, sfortunatamente, avessimo una quarta ondata di Covid e quindi verrebbero i pazienti ricoverati al Cardarelli, questa volta ci troveremmo con la metà degli anestesisti in forza. Pensate voi, fatevi un quadro di quello che è successo fino all'aprile di quest'anno, riproiettato nel futuro, è un disastro. Io credo che la regione debba fare qualcosa. E se il direttore generale di questa azienda non è capace, beh, sostituitelo. Grazie. 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 Grazie.